Tutti da Tiger, siamo di nuovo su Sensei a Soldier Solo su PS5 e adesso andremo a giocare la saga di Nettuno Questa è la parte 1, dopo aver giocato tutto il santuario, tutto Asgard, andiamo a fare Nettuno Alla fine di questa saga andremo a giocare finalmente la più bella di tutte, secondo me, quella di Ade Forse anche la più lunga, probabilmente Iniziamo E' la prima di essere, crediamo Un'altra parte, non è vero E' la prima parte, prendiamo i suoi fai, ma rio di una ria e la generala, per la prima parte Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, prendiamo i suoi fai, per la prima parte, e i 7 uomini di manmo spira athenano saint secondo me è abbastanza lunga mappa perchè sicuramente ci saranno già ogni scontro per ogni colonna più uno scontro centrale non vorrei che finisse già l'ultimo punto interrogativo comunque diciamo asgard e nettuno di solito sono le saghe quelle più corte ade e santuario sono quelle più importanti secondo me ma vedo così vabbè cominciamo dal primo dai che penso che non sia manco uno scontro l'ultimo Sì 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 Grazie a tutti! Io sto giocando alle altre modalità, che praticamente l'ho completato tutte le altre modalità, quindi praticamente l'ho anche quasi platinato il gioco, e riesco a trovarmi bene con tutti i personaggi. S-Siriou! Vero o male, so sempre il momento giusto di usare una mossa, mi viene automatico. Siriou! E' vero! 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 Es cheiuo la dallař syndrome livella concclosi Grazie a tutti 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 Forse Grazie a tutti 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 Grazie a tutti